Vi dicevo che mi fa piacere vedere tanti empolesi, anche il professor Testaferrata, che ha usato il suo testo per divulgare questo evento. Oggi è un giorno bello e anche un giorno triste, perché si ricorda un grande empolesi, anche se non è nata a Empoli, ma diciamo empolesi per spirito. Ricordiamo Gianfranco Welli, grande chirurgo, che ci ha lasciato un po' presto. Sono trent'anni, poco vedo Giovanni, che ci ha lasciato oggi. Abbiamo pensato, Giovanni, di fare un incontro per far ricordare agli amici e a chi va conosciuto il personaggio. Non sarà una rievocazione tecnica con date o biografie, almeno non più di tanto. Sarà una giornata di amici che ricordano un amico. E' per quello che a scaletta ci saranno dei relatori che sono stati grandi amici di Gianfranco. Io ora do la parola a Giovanni, che tutti saprete è figlio di Gianfranco, che introduce la giornata e comincia a presentare l'ora.